Siamo con Luca Tremolata, oggi bellissimo gol proprio sotto la curva nord, dicevamo a telecamere spente anche la tua prima intervista davanti alle telecamere della stampa Ternana. Questa partita la Ternana ha beccato due gol nei primissimi minuti, poi una super rimonta che vi ha permesso di vincere questa partita. Sì, è una Ternana un po' matta, tante squadre magari sul 2-0 si sarebbero, non dico un po' ammazzate, però in casa vai sotto 2-0, sei ultimo, è normale un po' di paura, ti viene, però abbiamo dimostrato che sappiamo giocare a calcio e che abbiamo anche gli attributi che è una cosa importante. Ci manca, ci manca un po' di convinzione, un po' di fiducia in noi stessi, un po' di fiducia nel compagno a volte, dobbiamo migliorare queste cose qua e poi siamo sulla strada giusta perché stiamo trovando anche equilibrio che era una cosa che ci mancava. Riusciamo a fare gol, che è una cosa in questa categoria difficilissimo fare, ne prendiamo tanti ma questo dipende purtroppo anche dai non attaccanti che dobbiamo cercare di recuperare qualche pallone in più perché così la difesa è più tranquilla. Dobbiamo migliorare perché questo per noi è un punto di partenza che abbiamo tanti margini di miglioramento, però era importante vincere perché stiamo creando entusiasmo, una città che ne ha bisogno, che vive di calcio e se noi facciamo bene siamo trasportati anche da loro, quindi è importante. Io ho definito Tarnana irrazionale, proprio sulla scia di quello che tu dicevi, però adesso dovrebbe arrivare la fase di una più pronta razionalità dopo questa vittoria o no? Sì ma era già successo a Cremona perché a Cremona eravamo già sulla strada giusta, poi purtroppo mi hanno preso dei gol un po' da ingenui. Oggi abbiamo confermato quello che di buono abbiamo fatto a Cremona e adesso sabato bisogna confermare che questa squadra c'è, è viva e che è partita. Le altre partite sono state un po' a rodaggio per noi, tanti giocatori nuovi, ci dobbiamo conoscere. Il mister ha idee particolari perché in questo campionato qua un allenatore così non c'è e quindi bisogna naturalmente, c'è voluto tempo, c'è voluto tempo. Speriamo che questo possa essere un punto di partenza ma ripeto parte tutto dalla testa perché noi purtroppo un po' di convinzione, un po' di personalità, un po' di credere a noi stessi manca. Troviamo quella e secondo me possiamo fare veramente grandi cose. Proviamo a sviscerare l'unico aspetto negativo di una partita che la Ternana ha strameritato di vincere alla fine. Il gol a freddo, 12 minuti di assenza dal campo, si chiudeva anche poco e male sulle traiettorie di giocata degli avversari, si correva molto ma male a nostro avviso. Poi il secondo gol, bravi gli giocatori avversari, tutti bravi in entrambe le azioni, qualche cosa da rivedere in difesa. Poi si cambia modulo, Carretta spacca la partita, tutti salgono di rendimento, Tremolata sale al proscenio e la Ternana ribalta il risultato a nostro avviso con pieno merito. Ti ripeto, ci manca un po' di maturità perché noi per esempio avevamo preparato la partita su un determinato modulo loro che giocavano 3-5-2. Siamo giocati 3-5-2, si presenziano qua, giocano 4-3-1-2. Non possiamo permetterci di non capire come uscire, come aggredire, come sastretti, corti, lunghi. Tutte quelle cose tattiche che nel calcio di oggi soprattutto fanno la differenza. Dobbiamo essere più bravi a capire queste cose qua. Perché poi noi prendiamo un gol, non sappiamo un po' come reagire, a volte reagiamo di cuore, poi di gambe. Poi invece quando ci mettiamo anche la testa, come abbiamo fatto, escono le cose. Però ripeto, è tutta una questione di attenzione, perché una volta che capiamo che loro giocano in un modo diverso, deve scattare qualcosa. E sono le cose che mancano a questa Ternana per fare il salto di qualità che meriterebbe per il gioco che esprime. Oltre ai complimenti per il tuo gol che hai inventato, all'inizio vi ha messo in difficoltà la posizione di Walter Lopez che praticamente lasciava due compagni in difesa e si scambiava sulla fascia con il suo compagno lì. Sì, 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 sì. No, 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 ma ripeto, noi pensavamo che lui facesse il quinto, ha fatto il terzino e si alzava molto. A mezz'ora si alzava, al trequartista veniva a giocare e noi eravamo un po' in difficoltà e non sapevamo come andarli a prendere. Bisogna essere più svelti a capire che si cambia modulo, ok, dobbiamo andarli a prendere così, così non concediamo agli avversari quello che abbiamo concesso. Poi, ormai, gli errori singoli poi si pagano, come quando noi sbagliamo i gol davanti, come a Cremona, che ne ho mangiato uno che si vince. È così, i difensori devono stare attenti, è tutta una questione di errori che vanno limati, però è normale che giocando, proponendo calcio, facendo un calcio offensivo, cercando sempre di fare la partita e di vincere la partita, sei naturalmente esposto a più errori dietro, però la difesa è incredibile per la personalità che ci mette, anche quando fa tanti errori, quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta e si può solo che migliorare. Due domande in una, come stai? Innanzitutto abbiamo visto che sei uscito per un piccolo infortunio, e poi che sensazione hai provato, diciamo così, ricevendo l'abbraccio dei difosi, un abbraccio simbolico? Innanzitutto, adesso lunedì faccio gli esami, però dovrebbe essere una contrattura, spero, dovrebbe star bene, magari qualche giorno, però dovrei farcela per settimana prossima. E' bello, bello perché si vede che è una città che vive di calcio, non so quante tifoserie ha sotto 2-0, sei ultimo, continuano a incitarti, a cantare, appena fai il 2-1 c'è subito entusiasmo, siamo trascinati, siamo trascinati da loro ed è importante mantenere questo entusiasmo perché questa squadra può fare di tutto, e con loro naturalmente è tutto più facile, e poi è bello, è bello perché è uno stadio che ti fa venire voglia di giocare, cantano, urlano, è bello andare sotto lì. Questa qua è una città che vive, che vive di calcio, e non c'è cosa più bella per noi giocatori che stare in una città così, quindi speriamo possa essere un anno importante per tutti. Luca, l'impressione dalla tribuna stampa è che il cambio al diciottesimo, fuori Ferretti, dentro Carretta, con l'Atenana, con il 3-3-3-1 o 3-3-1-3, sia stato utile sul piano tattico, ma anche come scossa psicologica, come il motore a scoppio, no? La scintilla che ridesta la squadra. Sì, no, di sicuro il mister voleva dare una scintilla, perché è indubbio questo, voleva essere un po' più offensivo. La velocità di Mirko, di sicuro, è un'arma che deve essere usata con la giusta testa, anche io mi trovo meglio con lui, perché quando gli metto la palla so che lui c'è un'altra cosa, però questa squadra qua, col 4-3-1-2, ha certi equilibri ed è indubbio, perché a Cremona abbiamo fatto una grossissima partita giocando così. Mi se si può sbizzarire, purtroppo in questa categoria l'equilibrio è fondamentale. La cosa bella di questa terra è che tutti noi davanti siamo diversi, c'è chi sa fare bene tecnicamente, chi corre, chi lotta, chi sa fa gol, chi sa uscire a giocare, chi sa attaccare a profondità, siamo tutti diversi, quindi questo per le squadre avversari è un problema. Dobbiamo solo, ripeto, conoscerci ancora meglio perché ancora qualcosina manca e lavorare, lavorare, che possiamo solo che fa bene. Tu prima dicevi che volta reagiamo di gamba, qualche volta di cuore, qualche volta con la qualità. Esatto. C'è la qualità di Montalto e Albadoro che hanno segnato due grandi gol, Carretta con velocista, Tremolata oggi ha dato un saggio da giocatore di categoria superiore. Al di là del gol, no? Giocate sullo stretto, verticalizzazioni profonde, intuizioni, arrivare un attimo prima nella lettura dell'azione. Sì, sì, no, ripeto, è tutta una questione, come dicevi tu, che siamo tutti diversi di conoscerci. I miei compagni sanno che quando palla libera si attaccano alla porta di ammetto, come io so che Adriano o Albadoro quando riescono a giocare mi possono creare la sua priorità, come so che Mirko mi attacca alla profondità, come so che Mattia 1-2 va a palla sopra, va in porta. È bello, è bello perché siamo tutti diversi e quindi, se ripeto, con la testa, oltre che il cuore alle gambe, purtroppo la testa è fondamentale in questo lavoro, possiamo fare bene. Stai avendo più continuità in queste ultime partite. Diceva Pokesci poche settimane fa, mi devo aspettare di più da Luca Tremolata. Sì, sì, assolutamente. Quindi forse perché sei cresciuto tu di testa o hai capito determinate giocate, determinati aspetti della squadra? No, 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 ma lui ha ragione a dire che si deve aspettare tanto, è normale, anche io mi aspetto tanto da me stesso come se lo aspetto i miei compagni. È normale, è una categoria particolare, ci vuole del tempo, gli avversari ti conoscono, preparano le partite, i tuoi compagni magari a volte ti capiscono, a volte no. Purtroppo quando cambi squadra, o per fortuna, si va a migliorare, ci sono dei tempi fisiologici con cui per partire è normale. Mi sta capendo, perché tante volte magari fai male le primi minuti, poi è malevato, invece magari se non ti leva è un'altra cosa, è normale, ci dobbiamo conoscere anche lui, lui è un po' particolare, molto particolare, però sono convinto che può farci fare il salto di qualità, perché allenatori che ragionano così non ce n'è. E questo può essere solo una cosa bella. Tu prima dicevi, noi attaccanti, ma tu non sei un trequartista? Oppure ti senti anche attaccato? No, 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 per me la cosa più importante è far gol ai miei compagni. Poi se faccio gol è normale, sono contento, però sì, sono un trequartista. Grazie, arrivederci.